E' straordinario, ve lo presento con il vostro applauso a Bello Pagliazza! Di sin da piccolo imitavo rumori, pensate che già nella pancia di mia madre imitavo le dolie, l'umore delle dolie, uscivo con la manina, imitavamo per esempio la nave che entrava nel porto, tutti i bambini con queste barchette di plastica, questa è la nave che entra nel porto, questa è la mia, arrivavo io, questa è la mia! Poi imitavo anche la Formula 1, tutti i bambini con queste macchinine di ferro, questa è la Ferrari, questa è la mia, c'era pure un amico un po' strano, questa è la mia, arrivavo io e facevo la Ferrari, la Ferrari, tutti quando si spostavano, facevo la Ferrari che arrivava da Maranello, proprio da Maranello, la McLaren fa così, la Williams BMW, mi sono messo ad imitare la batteria con la bocca, facevo proprio la batteria, Allora dissi, mo faccio anche il basso, le corde del basso, sai le corde? Hatte, faccio anche il basso che non pensavo per me ne accorge il basso, E' una cosa veloce Un rumore veloce, il treno Voi immaginate il treno che sta arrivando alla stazione Il treno Arriva eh Salla sul treno Il treno riparte Il treno riparte Arriva il tunnel Quando arriva il tunnel Il treno cambia rumore Sta arrivando il tunnel Il controllore E' finito il vagone Deve andare all'altro vagone Ecco grazie 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 Grazie